Salve a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia rodato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, l'ode e gloria a Cristo e Ave Maria, e Dio ci benedica a tutti noi. Bene, questo è l'appuntamento di avvisi e notifiche, quest'oggi quali sono gli appuntamenti della giornata? Ore 15, cenacolo di preghiera della Divina Misericordia, quindi faremo la coroncina della Divina Misericordia alle ore 15. Finita la coroncina della Divina Misericordia e le preghiere del pomeriggio, chiaramente andremo poi a fare una breve live tavola rotonda o live meditando, quindi ore 16 e 15 circa, 16 e 15, 16 e 20 circa, sempre se Dio permette, Dio vuole, ecco come diciamo se ci sono trasmissioni straordinarie, sempre se il Signore permette non le faremo. E poi, l'altra live preghiera è alle ore 21, col Santo Rosario, le preghiere del Monfort, fino ad arrivare alla compieta, quindi ore 15 e ore 21, live naturalmente preghiera, e ore 16 e 15 circa, tavola rotonda o live meditando. Dio ci benedica, sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, l'ode gloria a Cristo e Ave Maria.